E quando parlo di Novalis parlo anche di Daniela Cavana, assolutamente, che da diversi anni, diverso tempo, collabori con queste grandi azioni. Siete proprio una famiglia ormai. Eh sì, ormai ci conosciamo non da tantissimo, però ci siamo trovati subito molto sulla stessa linea d'onda. Sono due persone meravigliose, loro credono molto in quello che fanno, amano questo lavoro, amano la musica, amano le belle canzoni e quindi dai, abbiamo stretto un bel legame. Posso dire che anche da un bel lavoro ci sono anche belle persone dietro, corrette, proprio professionali, molto molto carine a cui interessa anche proprio il parere, le intenzioni dell'artista. Certo, certo, assolutamente. Perché un po' nel mondo della discografia italiana di produttori, si sa che non è sempre così. È vero, loro non impongono mai niente, lasciano sempre molta scelta. anzi, me ne lasciano veramente tanta, quindi grazie. E quando tipo ci sono questi brani vostri, come Attraversare il mondo, Bastava poco, Angelita, Cannelloni Mambo, tutti i tuoi successi, brani sempre molto richiesti. Questa settimana eri al quarto posto con Popcorn. Ho visto, ho visto. Ma sei in classifica tutte le settimane. Mamma mia, grazie mille. Assolutamente, sei molto richiesta. Quando c'è la scelta di questi brani, ti vengono proposti da Roberto e Cristina, sei anche tu che promuovi, come è un po' il dietro le quinte? Dipende. Allora, i primi brani, alcuni, vabbè, insomma, sono collaborazioni che sono andate con diversi autori, quindi capita magari che io chiamo Roberto e Cristina e dico, c'è un brano, abbiamo un brano, c'è una canzone, come facciamo? Vi piace? Può andare? Però loro esprimono il loro parere, però l'ultima parola la lasciano sempre a me perché poi dicono giustamente che sono io che ci metto la faccia, che devo venderla comunque durante la serata, cioè devo sentirmela altrimenti è inutile. Ci sono state delle bellissime canzoni che tanti autori mi avevano proposto, che erano appunto bellissime canzoni, ma lontane da quello che ero io e da quello che, insomma, che sentivo di voler cantare e quindi ho dovuto abbandonarle. Poi magari sono state date ad altri e hanno avuto successo, ma sono contenta per loro. Il brano è un vestito, lo devi indossare, devi sentire il tuo agio. Ma Roberto e Cristina ti seguono anche nella realizzazione dei video, nel lavoro in studio, cercano di essere sempre presenti. Sono sempre un passo indietro, cioè nel senso sanno benissimo che cosa andremo a fare, ci consultiamo anche con Davide Legni che è il regista appunto di tutti i miei video, mettiamo insieme un po' di idee e poi, insomma, lascio per dire, loro lasciano molto a Davide perché è il suo lavoro, lasciano fare quello che deve fare. E ogni tanto ci metto il mio zampino, gli rompo un po' le scatole, tipo in laulaula, tutti i video dei buchi, insomma, sono stati partoriti da questa mente malata. No, ma scherzi! I video ci sono molto belli! Sono simpatici, dai. Dopo lo vogliamo vedere, perché so che su un video ti sei travesse, cioè eri te? Sì, sì, sì. In cinque persone praticamente, Daniele si è clonato in cinque persone in un video, ma è bellissimo. Sono cose non per strafare, perché non è proprio nel mio carattere, ma è stata proprio, siccome appunto era un video del buggy, quindi una canzone molto allegra, ho voluto proprio essere buffa, cioè perché poi alla fine sono buffa e quindi va bene. È bello, bello. Guarda, è una grande qualità anche essere autironici. Ma assolutamente. È una carta veramente che gioca a favore. Allora, andiamo a salutare, vediamo, vediamo, Daniele, lo dovevamo ancora salutare. Voglio stare con voi, un forte abbraccio a te Dagmar e alla bravissima Daniele, che spero di rivedere presto. Quell'amicizia e stima, Daniele di Bertipalli, Daniele Spolonna. Grazie, grazie Daniele Spolonna. E poi, buongiorno ragazze, come promesso, noi ci siamo, ci spiace per domenica, ma alla prossima ci saremo, insomma, un abbraccio tra i tuoi ragazzi. Ok, Gianni e Sonia sono, grazie mille, tranquilli. Domenica c'era un tempaccio e molte persone giustamente hanno deciso, eravamo al Mascara, hanno deciso di non rischiare, perché veramente dalle nostre parti ha fatto parecchi danni, insomma, ha letto giù tanta acqua. Assolutamente. Ne leggiamo un altro, poi vi faccio ascoltare un altro bellissimo brano di Daniela. Dagmar, salutemi Daniela, che è una stupenda donna, ha una meravigliosa voce, sono il tuo fan, Denis Di Maniago. Ciao Denis, grazie mille, grazie, grazie. Allora Denis, lo dedichiamo a te, come anche agli amici precedenti che hanno scritto, La vita è qua giù, dal nostro format di Balliamoci Sopra, all'Arena di Lignano, Sabbia d'Oro. Cos'è la vita qua giù? Cosa vuoi dire? È un bel ciaccia, insomma, è un bel ciaccia. Dunque, diciamo, è una canzone un po' riflessiva, con una veste un po' allegra, cioè perché è stata trasformata da ciaccia e parla di quattro persone, di quattro vite totalmente diverse, che apparentemente magari sono anonimo, insignificanti, oppure possono avere qualcosa che li butta a terra, però alla fine la vita è una sola, come dico sempre quando presento questa canzone, e vale la pena di viverla proprio. Certo, zampino sul testo e sulla musica. Certo, certo. Poi non parliamo dell'arrangiamento. Dai! Sì, sì, sì. Dopo voglio estroppolare quel coso. È stato molto discusso, però questo funziona e lo ballano. Vai ragazzi, la vita è qua giù, Daniela Cavanna oggi ha sorriso insieme a noi. Eccoci qua, ben rientrati in studio, ben rientrati in studio. Abbiamo ascoltato questo bellissimo mix, sempre interpretato da Daniela Cavanna, ma adesso ti faccio vedere una bella cosa, Dani. Sì, l'ho già vista, ma voglio sapere. Sì, questo l'ho ancora vista, è la My Vitaly End. Ok. Questa è una buonissima crema biologica, senza parabeni, non unge, assorbimento rapido, poca profumazione, ed è ottima per chi ha l'estratto appunto di mandorla dolce, estratto purissimo di foglie d'olivo, come il nostro verde puro bio di My Vitaly, ed è adatto adesso che, sai, per i miei stagioni, per i miei freddi, mani screpolate, taglietti. Sai che anche le mani sono il nostro biglietto da visita, le mie non sono delle più belle. No, ma neanche le mie. Ecco, però almeno la pelle che sia bella morbidina, questa la si può avere in regalo acquistando due boccioni di verde puro bio My Vitaly. Anche Daniela prima lo stava guardando, che le ha messo un po' di curiosità. Cos'è questo prodotto? Io ve lo ricordo sempre, è un prodotto made in Italy, ve lo ricordo, il marchio made in Italy è sempre molto invidiato, molto richiesto, prodotto biologico, naturalmente non si tratta di medicine, si tratta di un estratto purissimo di foglie d'olivo fatto qui nella nostra terra veneta e naturalmente ha tantissime funzioni. Vi basta al mattino integrarlo, prima della colazione, insomma, 40 ml proprio qua, proprio semplice, trick, lo bevi. A cosa serve? Difese immunitarie, quindi supporto immunitario, regolarità intestinale, pressione sanguigna, colesterolo, anche un po' per il metabolismo, per dare anche un po' di carica in più sì dalla mattina, quindi ha un sacco di funzioni e consideriamo che è un integratore assolutamente naturale, biologico. Come fare per chiedere informazioni, per poterlo anche prendere? Insomma, si può fare in due maniere, o collegandosi al sito myvitaly.it, non preoccupatevi per la telecamera, è una cosa normale di qualche secondo poi si sistema, oppure potete chiamare il 331-7441-240, telefonicamente potete ordinare myvitaly.it, sapete che con l'acquisto di due boccioni avrete in regalo la myvitaly end, quindi direi un'occasione sia per provare il prodotto che per non farsi scappare anche l'offerta. un trattamento completo, ripeto, due boccioni avrete in regalo la myvitaly end e potete effettuare il pagamento alla consegna, scusate, tutto mandato al vostro domicilio senza nessun problema. Noi naturalmente di sorriso ringraziamo e vi invitiamo a provare quest'ottimo prodotto. E torno a parlare dopo di myvitaly, torno a parlare con la nostra Daniele Cavanna, super ospite di oggi della puntata di Giro di Tacco. Allora stavamo parlando un attimo che lo zampino tu lo metti dappertutto, tutte le canzoni, tutti i video, però allo stesso tempo dicevi come persona sono timidina, me ne sto per i fatti miei, me ne sto in parte, però quando è ora, tacchete! Eh beh, insomma non sono una esuberante sempre, però in quello che mi interessa, mi riguarda soprattutto, visto che è il mio lavoro, la mia vita, in questo mondo, ci ho fatto confluire tutta me stessa, allora sì, mi permetto magari di dire qualcosa, poi non è che dico è legge, cioè io do un consiglio, ma così anche con i miei ragazzi in orchestra, cioè magari c'è un brano oppure un arrangiamento, sono sempre lì che dico, allora ragazzi si potrebbe fare così, piuttosto che cosa, l'arrangiamento secondo me, insomma si fa una collaborazione anche con i ragazzi. È difficile gestire un gruppo di tante persone con teste diverse, è difficile la gestione di un organico? Ma allora, diciamo che di facile non c'è niente, però io ho la fortuna di lavorare con degli ottimi musicisti, professionisti, però prima di quello sono anche delle persone meravigliose, con le quali io d'accordo, perché altrimenti non potremmo avere il feeling che abbiamo sul palco, non potrebbe esserci quella collaborazione che c'è, e quindi prima del musicista io devo conoscere la persona, per questo molte volte magari anche in passato mi è stato proposto, vengo io a farti da bassista piuttosto che da batterista, sì ok ci conosciamo, vediamo una cilino, ma non per altro, perché secondo me un lavoro come questo deve essere fatto veramente di tanta affinità, cioè deve essere di fiducia, di feeling, di comprensione all'istante sul palco, che poi arriva dopo anni di rodaggio, di lavoro insieme, però un minimo devono esserci quelle cose che, insomma, quelle caratteristiche, la pensiamo allo stesso modo. Anche perché alla fine diventa una famiglia, si stiamo insieme tutte le sere, bisogna sapere andare d'accordo, e non è facile, perché insomma, mi ripeto, siamo tante teste diverse, non è facile, però brava, perché non è facile anche trovare l'uomo che, lo dico, mi prendo la responsabilità di quello che dico, non è facile trovare l'uomo che dica, sì, ascolto il mio titolare anche se è donna, perché delle volte sono un po' sottovalutate le donne. In passato forse almeno c'è qualche musicista l'ha pensata questa cosa, però poi quando hanno capito che, non dico delle cavolate, perché è un conto se dici una roba e vabbè dici una stupidata, allora dico, ma questa qua cosa parla a fare, no? Però hanno capito che, insomma, quando parlo, non parlo sempre, quando parlo è perché c'è da dire qualcosa. Parli per qualcosa, di valido. E quindi allora, no, rispettano tutti, anzi, Daniela lo facciamo così, cosa dici? Facciamo così, oppure finisco prima, come la tengo stano? Cioè, tantissimo, la cosa mi fa veramente piacere. Vabbè, ti chiede l'immagine, non è facile trovare una soluzione del genere, trovare personale, professionista, sotto tutti i punti di vista. A vero, a vero, a vero. Salutiamo Ioli di San Martino di Lupari, salutiamo oggi la bravissima Daniela, felicissima, e appunto la salutiamo anche noi. No, dillo, due grandi artisti. No! Allora, tutti i complimenti che ci sono per lei, lei non li legge. No, non importa. No, invece importano, assolutamente, altrimenti mi arrabbio. Io li ringrazio sempre, sono sempre tutti i giorni molto carini con me. Ma giustamente. Però oggi il faro è su di te. Ma ho capito, però siamo qui in due, e io, siccome non, cioè, voglio dire, siamo amiche, ci conosciamo. Sì, non importa. Mi fa piacere se ti fanno i complimenti, ma leggili pure, Santa Polenta. Ciao Dagmar, voglio salutare la carissima Daniela, un abbraccio, un salutone anche a Danilo, a presto, Nadia e Loris di Sarmego. Un abbracione, ciao ragazzi. Poi vediamo, buona giornata Dagmar, sono contenta di vederti assieme a Daniela Cavanna, anche lei è una cantante che mi piace tanto, purtroppo non sono riuscita ad avere l'amicizia su Facebook. Chi sei? Angelo Di Padova, mi sembra, no, di Vicenza, di Vicenza. Dimmi il cognome, scrivimi il cognome, vediamo di andarti a recuperare da qualche parte, perché avevo finito i posti, poi ne ho liberati alcuni, e quindi qualche posto adesso si è liberato. Carlo di Verona, buongiorno Dagmar, ma che brava, ma che bella la Cavanna, pensa, piace molto anche a mia moglie Wanda, grazie, grande Daniela. Grazie. E poi, ciao bellissimo, un abbraccio grande Daniela da tutti gli amici, Sonia e Gianni, da Chiampo, Robi, tutta la Compagnia del Veneto, buona giornata, Robi da Fiesso d'Artico. Oh, è la, grazie mille. Un bacione. E salutiamo la famiglia Vittadello. Ciao. Ciao, bellissime Dagmar e Daniela, un bacio a voi, è tutto TV Sorriso. Ciao ragazzi. Salutiamo anche Adelio e Marinea, che ci fanno anche recapitare una bella foto di Sarde, e insomma dice, oggi siete veramente una coppia speciale, due donne che sprizzano bellezza e grande musica, un mega saluto. Grazie. Grazie a voi. Salutiamo Teresa alla Costa Azzurra, dice che ti ha conosciuta il Dancing La Luna, sì. Ancora un pochino di tempo fa. Ci siamo viste una volta sola, poi alla fine i contatti sono tramite social, oppure tramite voi. Grazie. Questi li teniamo per dopo, perché sono tanti, tanti, tanti messaggini, fra poco andremo ad ascoltare anche la proposta musicale delle edizioni Caramba, che salutiamo. Prima abbiamo un altro successo, posso dire proprio che è un successo questo brano. Grazie. Prima dicevamo in radio del 2020, del nuovo disco, ultimo disco, e Attraversare il mondo. È la canzone che dà il titolo, mi sembrava significativa, per chiamare un CD, Attraversare il mondo vuol dire tante cose, poi in questo periodo, ripeto, come ho detto prima, che siamo stati chiusi in casa, e la voglio dedicare a Gianni e Sonia, perché me l'hanno chiesta e so che è una delle loro canzoni preferite. E mi aggiungo anch'io, perché è veramente molto, molto bella. Ce l'ascoltiamo. Daniela Cavana, oggi a Sorriso, Attraversare il mondo.